Cominciamo subito, ci colleghiamo con due campioni dello sci che sono appena conclusi, no? I mondiali di sci alpino di Cortina e allora abbiamo le due medaglie le due medaglie ci colleghiamo con Marta Bassino e con Luca De Aliprandini buonasera ragazzi, vediamo se arrivano eccoli qua, buonasera e complimenti ciao, ciao Marta, ciao Luca buonasera a voi grazie, grazie complimenti, complimenti a tutti e due grazie mille grazie intanto ditemi com'è andata come state, quali sono le sensazioni cominciamo con Marta ma io devo dire sto benissimo è andata bene sono state delle bellissime giornate poi vabbè è tolto anche il giorno della medaglia che è stato meraviglioso comunque tutto il periodo dei mondiali medaglia d'oro, unica medaglia d'oro di quest'anno grazie quindi, intanto non accadeva da 24 anni, giusto? l'ultima donna era stata la compagnoni alla quale sei stata paragonata da molti peraltro da un po' sì, spesso mi paragonano anche se a me in realtà non piace essere paragonata perché penso che ognuno abbia la propria storia e la propria personalità quello sì, però è un bel complimento no, sono state assolutamente sì, un onore però è stato comunque molto emozionante è emozionante e Luca complimentissimi a te hai conquistato una fantastica medaglia d'argento ed eri veramente felice beh sì, sicuramente è stata una grande giornata sì, una medaglia diciamo inaspettata forse perché non ero sicuramente tra la lista dei favoriti però appunto alcune volte quando inaspettata è ancora più bella perché forse neanch'io ci credevo al 100% quindi ero libero non avevo nessun peso e sono riuscito a dimostrare la mia massima performance sugli sci e quindi mi sono lasciato andare al traguardo con le emozioni quando ho capito che sarebbe stata medaglia senti, ho parlato di Deborah Compagnoni con Marta il tuo idolo è Alberto Tomba dello sci beh io sono cresciuto gli anni che lui vinceva in Coppa del Mondo faceva grandi successi quindi c'è ancora un video a casa dei miei genitori dove dico quello lì è il mio amico Alberto e quindi sì lui è stata diciamo la mia fonte di ispirazione anche perché non venendo da una famiglia che c'entra molto con lo sci sono stato io che ho voluto andare sull'iscina quindi non sono mai stato spinto e ti ha telefonato pare mi ha chiamato prima della premiazione ha detto che cambierebbe il mio argento con un oro perché l'argento mondiale gli manca ha detto che simpatico carino Marta anche tu tra l'altro lo sci non era diciamo lo sport per il quale eri votata dall'inizio cioè non era il tuo sport dalla bambina ma no in realtà sì lo è sempre stato poi ho anche fatto ginnastica artistica però lo sci è sempre stato comunque parte della mia vita si dice che il freddo non fosse il tuo elemento diciamo preferito eh quello lo è ancora è ancora così in realtà perché patisco abbastanza al freddo sì purtroppo perché allora facciamo uno sport al freddo senti io direi rivediamo questi meravigliosi momenti che avete regalato a tutti noi con tutti i nostri complimenti prego a Marta e a Luca grazie a tutti grazie a tutti Chissà cosa si prova adesso, Filippo, io non lo saprò mai, insomma, però pensa che sensazione di ebbrezza che si può avere dentro. Complimenti davvero, è stato un mondiale non fortunato per la squadra azzurra, ma voi fortunatamente ce l'avete fatta, siete qui con queste due bellissime vittorie. Salutiamo naturalmente anche tutti i vostri compagni, a cominciare da Sofia. Sì, sicuro, manca tanto, lei l'abbiamo vista e è venuta un giorno a trovarci, ma grande Sofia, a me manca tanto e ma tornerà forte perché lei è un'atleta veramente con un carattere forte, quindi noi l'aspettiamo. Senti, Luca, qual è il tuo soprannome? Finferlo. Finferlo, perché? Da dove arriva? Ma è una storia lunga, da quando sono entrato in comitato a 14 anni, al primo raduno sciistico, siamo arrivati al casello d'autostrada dove ci aspettava l'allenatore e io e un mio compagno di squadra, però lui era già 1,75-1,80 a 14 anni, io ero ancora forse 1,50. E quindi lui ha detto, l'allenatore ha detto, ma tu chi sei? Sei il fratellino? E lui ha detto, no, sono anch'io, io sono Luca Delle Prandini, sono anch'io l'atleta. E allora lui scherzando ha detto, ma sei come un finferlo. E poi da lì è rimasto. È rimasto. E niente, è il mio soprannome. Invece Marta, tu sei così concentrata in gara, ma poi so che ti sei persa in macchina mentre andavi al ritiro, cioè che sei sbadata nella guida. Un pochino, sì. Infatti mi chiamano Dori come il pesolino. Dorina, la pesolino. Ragazzi, davvero molti complimenti. vi mando un grande abbraccio. Grazie per essere stati con noi e aver aperto questa puntata di Che Tempo Che Fa. Davvero grazie e complimenti di cuore. Grazie mille a voi. A voi. Ciao Luca, ciao Marta. Grazie. Grazie. A presto. Speriamo di conoscerci. Ciao.